Benvenuti da Claudio Brechino, questa nuova puntata di primo piano elezioni europee, abbiamo già debuttato un po' di giorni fa, quindi questa volta il nostro format Conoscer l'attualità attraverso un'intervista a un protagonista dell'attualità in tutti i campi, non è più in tutti i campi perché è decisamente la politica ed è una figura che rappresenta un pezzo di storia della politica italiana, Renata Polverini, grazie ad aver accettato il nostro invito, buon pomeriggio, candidata nella circoscrizione del centro per Forza Italia, storia recente in Forza Italia ma è stata anche governatrice, governatore del Lazio, come devo dire, qui si capisce più, io mi facevo chiamare la presidente, presidente della regione Lazio ma anche prima donna a capo di un sindacato che è l'UGL e qui abbiamo intervistato spesso anche Capone che è l'attuale segretario dell'UGL. Allora, la domanda prima più semplice in questa rubrica con l'agenzia di stampa, io dico sempre perché, i grandi scrittori che ho conosciuto, io ho scritto anche libri, dicono ma perché, alla fine vanno allo specchio, ma perché abbiamo fatto un libro e lo pubblichiamo? A lei cosa l'ha spinta a candidarsi? Qual è l'ingaggio nuovo verso i cittadini? Allora, devo essere sincera per due motivi, il primo è perché volevo dare una mano a Forza Italia nel momento in cui tutti la davano per morta, era venuto a mancare il presidente Berlusconi e si divertivano sostanzialmente a dire che non aveva lasciato eredi, che non potevamo proseguire una storia che invece è stata una storia importante per ciascuno di noi e quindi volevo dare una mano al partito e poi volevo dare una mano a cambiare questa Europa, un'Europa nella quale io sono convintamente dentro, un'Europa che abbiamo visto crescere, ho detto qualche giorno fa ai giovani forse non l'abbiamo fatta crescere bene come voi meritavate, però con il vostro voto possiamo oggi cambiarla, cominciare dalle regole, dalle regole che non possono essere più quelle con le quali ci confrontiamo, a cominciare dal potere di veto. Parliamo un attimo, chiaro che il programma ci porterebbe via tutto il tempo, però per far capire a chi ci segue dentro lo schema del partito in cui li è, dentro la guida del segretario italiani, che oltretutto è uno non solo europeista, ma è stato presidente del Parlamento europeo, dentro una storia anche di Silvio Berlusconi rispetto all'Europa che è molto chiara, io volevo sapere almeno i tre punti essenziali del suo programma, uno lo finiamo adesso è sulla governance, ma poi vorrei sentire anche qualcosa sui contenuti, nel merito, dal green all'immigrazione piuttosto che altri temi su cui l'Europa ci ha passione e insieme ci fa arrabbiare. Sì, diciamo che questa Europa della quale ci sentiamo cittadini molto spesso su alcune grandi questioni, a cominciare dal green, ci mette in difficoltà, in questi giorni incontrando i cittadini mi rendo conto che anche questa nuova direttiva sulle case green preoccupa molto, il nostro è un paese che ha l'80% di proprietà di case, significa un conto fatto così molto velocemente che ogni famiglia dovrà spendere in media 35 mila euro per mettersi a norma, a cominciare dalla caldaia che prima ci hanno detto che bisognava metterla a gas, adesso non va più, quindi sicuramente una politica green, il rispetto per l'ambiente ma anche il rispetto in questo caso delle tradizioni, della storia e dell'architettura del nostro paese. Lei è convinta che la transizione ecologica, io oggi ho partecipato a un talk e lì veramente ci si divide in due, quelli che dicono come fossero, sai, si ricordi i positivisti, i filosofi dell'Ottocento, deve essere fatto con un mantra eccetera eccetera, quelli che dicono no però vediamo perché si rischiano disuguaglianze, impoverimenti, perdita di posti di lavoro, di aziende, forse bisognerà trovare una via intermedia, fra un dovere essere storico per salvare la terra. Io penso, e il secondo motivo per cui mi sono candidata è perché penso di avere l'esperienza per poter in quell'ambito trovare delle soluzioni, conoscendo il nostro territorio a cominciare da questa regione ma non solo, ma anche conoscendo i meccanismi con i quali ci confrontiamo, anche la necessità di mediare tra paesi. Ecco forse l'Italia è stata troppo poco attenta alla preparazione delle norme e poi quando si arriva in Parlamento europeo che debbono essere votate ormai è tardi. Ecco io penso di avere anche una capacità di mediazione dopo oltre diciamo quasi 30 anni di sindacato, quindi anche la transizione può essere fatta ma nel rispetto appunto dei territori, delle persone, della cultura. Io ero sindacalista e mi dicevano che dovevamo guardare al sistema di welfare della Danimarca e io sostenevo che 5 milioni di abitanti della Danimarca noi li avevamo solo a Roma quindi non era possibile. La stessa cosa deve accadere sulla transizione ecologica, guardare ai paesi, guardare alle storie anche sociali, non soltanto economiche e con gradualità sicuramente potremo accompagnarla. Senta c'è un altro grande tema su cui poi veniamo a quel tema di attualità di questi giorni che è il tema della politica estera, anzi andiamoci subito perché la cronaca come sempre qui non è un talk, io però leggo i giornali, i siti, quindi riporto qui tra poco, è quasi diretta questo tipo di rubrica. Insomma qui c'è un Macron con leader francese, quindi una figura importante per la costruzione della politica comune in Europa che si prende la responsabilità di alcune affermazioni che hanno scatenato delle reazioni in Italia ma anche all'estero. Insomma se Putin arriva fino a un certo punto forse bisognerà mandare i nostri uomini. Noi abbiamo spiegato l'opinione pubblica, lo dico perché io volevo fare un programma sui taxi, mettere una tagamma non si può fare per questo tipo, perché i tassisti che sentono tante persone quando incontrano qualcuno un po' conosciuto gli fanno domande, dico a dottor, ma che fa? Ma che fa sto buddha? È matto, non è matto, ma che dobbiamo fare? A noi, ma c'è la guerra, ma c'è la terza guerra mondiale. Questo è uno stato medio del discorso, non so se è d'accordo con me, è preoccupante. Allora noi dobbiamo avere la nostra opinione che noi abbiamo un ingaggio per cui aiutiamo, siamo d'accordo o non siamo d'accordo con le armi, un paese a difendersi da un aggressore, ma il nostro ingaggio è che non mandiamo uomini sul terato di guerra. E credo che Macron prima di un'affermazione di questo genere, poi molti miei colleghi di ministro lo hanno difeso, hanno detto che si è portato in avanti per parlare della nuova Europa, della politica estera comune, dell'esercito comune, intanto l'ha detto e mi sembra che questo sia, anche Tajani è intervenuto con il suo pensiero su questo, però sulla politica estera europea. È intervenuto giustamente Tajani anche perché Macron che è in difficoltà nel suo paese probabilmente ogni tanto lancia qualche messaggio forte per ritrovare una centralità per il suo paese, però in questo caso noi non ci sentiamo assolutamente di seguirlo, come ha detto lei, non invieremo armi come stiamo facendo all'Ucraina sulle decisioni, siamo un paese nella Nato, quindi da quello ovviamente non ci scostiamo, però non chiediamo agli italiani di andare in guerra perché riteniamo che l'invio di truppe rischierebbe di portarci realmente verso una guerra che poi non dominiamo più. Quindi su questo c'è una posizione ferma dell'Italia, io mi riconosco totalmente. Senti, in termini di politica estera europea però, no? E si fa fatica appunto, abbiamo parlato di Macron, a stabilire, poi insomma con le sanzioni si è trovato un'unità, con il Covid anche se non è una politica estera si è trovato un'unità. Forse dopo questo voto è un grande tema, la geopolitica oramai ci circonda da tutte le parti, insomma c'è il problema del Medio Oriente, c'è il problema dell'Africa, c'è il problema dell'energia, c'è il problema delle materie prime, c'è il problema di nuove forme di potere che si dispongono, ci sono delle elezioni in America, forse vince Trump, anche se bisognerebbe fare una puntata a parte per spiegare che i presidenti non è che fanno una politica estera personale che arriva, insomma l'ho detto mille volte, insomma che Bush ha bombardato l'Iraq ma è stato il politico di Covid Obama a uccidere con un blitz, dei democratici cambiamenti. Però è un mondo, è un anno di grandi cambiamenti, quindi forse il tema della politica estera per lei che va in Europa, o questi candidati per andare in Europa è molto importante. È molto importante ed è uno degli argomenti di cui parlo quando incontro gli elettori, proprio perché il Covid prima e la guerra adesso che abbiamo in casa ci ha fatto capire che l'Europa così fintamente unita non può funzionare, in particolare sulla difesa, quindi io penso che una delle grandi questioni che andranno affrontate subito è proprio questo, noi non possiamo minimamente competere con grandi paesi come appunto vediamo in questo momento la Russia e così in maniera ognuno dice quello che vuole e le parole di Macron ci dicono che dobbiamo andare veramente verso una difesa comune dove ci sia un capo che parla quando tutti i paesi come dire sono d'accordo perché altrimenti rischiamo di inseguire un esercito comune insomma. Io penso di sì. Quindi investire da questo punto di vista sa che su questo i pacifisti non sono d'accordo, c'è invece che dice no ma la pace si conquista Ma guardi la pace la vogliono tutti, però a me hanno insegnato appunto che la pace si è conquistata anche con le guerre purtroppo. Senta lei ha un'esperienza che giustamente ha ricordato, poi voglio fare una domanda diciamo come un governo, presidente, la presidente non esistono i governatori in Italia, io lo ero, presidente. Allora c'è uno studio del census che mi ha molto colpito, penso sia sull'autorevolezza del census non si deve discutere che vedendo un po' la mappa dei cittadini, dei citizen dell'Unione Europea si pensa che uno su due non andrà a votare, questo è un grande tema delle nostre democrazie, io personalmente penso che questo sia il tema più urgente per noi del fascismo antifascismo di cui è legittimo discutere all'infinito ma abbiamo altri problemi sulla democrazia, questo è uno ma di quelli che votano un terzo dice il census è arrabbiato perché è diventato più povero e sono state fatte 75 aree di depressione e molte sono nell'Europa del Sud e moltissime in Italia. Che risposta diamo in termini di qualità della vita, del lavoro e del welfare a questi cittadini europei arrabbiati? Da qui molti italiani, non so se gliel'ho messa un po', no? Sì, assolutamente bene, la risposta viene semplicemente dal cambiare la missione della Banca Centrale Europea, noi dobbiamo guardare la Banca Centrale Europea come un motore di sviluppo per i paesi dell'Unione e non come un organismo che tiene a bada l'inflazione, diciamo che io tornerai indietro a Draghi quando immetteva Danaro e questo creava un circuito economico che ha funzionato piuttosto che adesso dove la Lagarde alza i tasti semplicemente per bloccare l'inflazione, questo è un tema importantissimo sul quale bisogna assolutamente dare battaglia, dopodiché io penso anche che i cittadini devono andare a votare e dare un voto a quei partiti come Forza Italia che è all'interno del Partito Popolare Europeo che realmente possono agire all'interno del Parlamento, perché in molte case, chiamiamole così europee, di appartenenza al Parlamento Europeo ci sono delle regole che non consentono nemmeno di presentare un emendamento, quindi dare forza a chi domani sarà lì anche all'interno appunto di un partito che ha voce in capitolo. Perché ricordiamolo, perché io dico che si parla poco di Europa sia come programmi, si parla poco di Europa, qui noi siamo in una via vicina, via Veneto, insomma scendiamo qui sotto col microfono, siamo nel centro di Roma e io, lo facciamo una volta a studio aperto, l'abbiamo fatto una volta per la guerra in Afghanistan, abbiamo avuto fuori delle cose che l'ho scritto io a questione, tre domande, una vera, una falsa, una così, così, insomma tipo Mullah Omar è venuto fuori che era una danza araba, il consiglio leader dei talebani, ma se non andiamo qui fuori e diciamo alla gente di spiegare la differenza tra il Parlamento Europeo, il Consiglio Europeo, la Commissione Europea e i ruoli di questa cosa, la gente non lo sa. Noi dobbiamo far conoscere l'Europa nei contenuti che vogliamo portare, ma anche nella governance, lei diceva all'inizio mutare la governance, la discussione famoso del voto all'unanimità, 1 e 27. Nel programma di Forza Italia abbiamo questo, intanto vogliamo arrivare all'elezione diretta del Presidente della Commissione, perché oggi è di fatto un tecnico, anche se è un ruolo logico ricoperto da Ursula Fondaglia. Esattamente, dobbiamo arrivare a che siano i cittadini dei Paesi a individuare un Presidente che a quel punto ha una forza e non dipende più appunto dai Paesi che lo hanno votato. Chiediamo anche maggiori poteri al Parlamento Europeo, perché oggi, mi spiace dirlo, ma in alcune circostanze il Parlamento è un po' il passacarte della Commissione, quindi anche su questo. E poi soprattutto vogliamo eliminare la politica dei veti, perché dove un Paese può bloccare tutti gli altri semplicemente… Che si può dire maggioranza e non che uno mette il vetro a tutti gli altri. Almeno su grandi questioni che impattano realmente sulla vita dei cittadini. Senta, a proposito della BC vorrei tornare su questo tema, perché questa è una critica che io faccio alla mia categoria a cui appartengo. Il cosiddetto mainstream se ne occupa poco. Io invece sono convinto, io ti ho sentito tanti economisti in questi due anni e insomma sull'inflazione sono dei dei molto discordi, ma si aspetta che la BCE faccia il primo taglio almeno all'inizio dell'estate? Beh, io me lo auguro. Diciamo che… Che è poco, è ancora poco. Ci aspettavamo a marzo. Esattamente. Noi siamo stati contrari all'innalzamento dei tassi e siamo assolutamente a favore. Però mi pare di capire che la guida di questa banca centrale europea la pensi diversamente. Ma se non facciamo questo ovviamente non riusciamo ad uscire dall'impasse nel quale i paesi si trovano. Non ci dimentichiamo che noi, se stiamo nelle regole del patto di stabilità, abbiamo subito come ci approcciamo con la manovra di bilancio, 13 miliardi da recuperare. Lei mi spiega come facciamo poi a dare risposte a quelle persone che si aspettano un lavoro, che si aspettano una sanità migliore di quella che abbiamo, che si aspettano comunque un futuro migliore per i loro figli. Quindi secondo me il nodo della banca centrale mi fa piacere che mi parla. Io insisto molto. Devo dire anche che noi politici abbiamo tante colpe, ma anche la comunicazione che non informa rispetto a questioni sulle quali invece i cittadini debbono essere informati. Molto spesso si preferisce far litigare i politici piuttosto che farli parlare di contenuto. Guardi, io sono molto trasparente, ho diretto fino a pochi giorni fa un magazine che si chiama Il Settimanale, spero di riprenderlo, con un lavoro lungo sulle PMI. Ho chiesto a tutti i giornalisti economici che lavoravano per me di fare pezzi compensibili. Mi sa che l'incorzione economica, io ho fatto la segnal stampa per anni, provato a leggere un'ottava sopra degli articoli che sono pieni di acronimi, che sono pieni di sigle, che sono pieni di concetti dati per scontati. La gente, pur essendo temi che riguardano le proprietà, non è in grado di capirli. E come lei sa in democrazia l'oscurità non fa bene alla democrazia. Sono assolutamente d'accordo. Posso dirle una cosa? Io ho un complimento che mi piace e lo ricevo quasi tutti i giorni, è che parlo in maniera comprensibile. Questo per dire che ha ragione lei. E poi anche veloce. Senti, le ultime due domande. Vede che il tempo, teniamo il format breve, che va più veloce sul web. La politica è anche politica dell'ascolto, è un'esperienza anche sindacale, è stata Presidente del Lazio, quindi è stata conoscita i territori. Adesso la circoscrizione è molto grande perché, lo diciamo per chi vota, sono cinque. Sono quattro regioni, Lazio, Toscana, Umbria e Marte. No, cinque le circoscrizioni in tutto. Sono cinque le circoscrizioni. E quindi è un territorio enorme, bisogna viaggiare, bisogna muoversi, però poi alla fine incontrare gli altri ti dà la temperatura, come io ho fatto l'esempio del tassista, dei problemi reali della gente, che secondo me non sono il ritorno del fascismo, ma in un'economia evoluta del ventunesimo secolo, campiamo, non campiamo. Saremmo aggrediti, non saremmo aggrediti, la terra esista e non esista, arriviamo alla fine del mese, la parità di genere, i lavori, i figli, i giovani, eccetera. Lei che cosa, da questo viaggio che cosa si tira dietro? Che gerarchia si tira dietro? Allora, posso dire una cosa, che io per tanti anni ho ascoltato tante persone e la maggior parte delle quali era molto preoccupata per il futuro rispetto al lavoro, o per i figli o per se stessi, è un grande tema, però in questo momento quello che raccolgo di più è la sanità, oggi c'è un tema che riguarda la salute delle persone che viene messa a rischio quotidianamente e c'è una disparità rispetto al paese in cui nasci e in cui vivi che non è accettabile per un diritto che è sancito dalla Costituzione, quindi io credo che su questo grande tema anche il governo nazionale deve fare una riflessione profonda, perché avere un'analisi con un anno o addirittura più di un anno di ritardo molte volte purtroppo può valere la vita. E come l'Europa può aiutarci in questo? Perché qui le politiche nazionali, non abbiamo delle politiche regionali. Questo è un grande tema, perché io invece credo che l'Europa su questo può fare molto poco, ma il prossimo Parlamento europeo secondo me deve anche cambiare le materie sulle quali l'Europa interviene. Non è possibile che l'Europa non dia delle indicazioni, le dà, ma come dire, si fa per dire, per la salute delle persone, che secondo me è il primo dei diritti che un cittadino ha. Io da sindacalista dicevo rispetto agli infortuni sul lavoro, alle morti, purtroppo ne abbiamo viste anche molte recentemente, guardate, sì, dobbiamo lavorare perché i lavoratori abbiano un contratto migliore, ma prima ancora dobbiamo lavorare perché si è assicurata la salute e la vita. E la stessa cosa secondo me vale rispetto alle azioni che i governi nazionali fanno. Questo è un grandissimo tema che ci portiamo avanti, sicuramente ha ragione, è un tema democratico, lo dico sempre quando si parla di infrastrutture o dei smart city, il diritto alla mobilità è un diritto democratico, il diritto all'istruzione è un diritto democratico, ma il diritto alla salute è un diritto essenziale come quello del lavoro che è riconosciuto e sancito come pilastro della nostra costruzione. Poi dopo adesso non abbiamo il tempo, magari lo facciamo più avanti e ragioniamo sul fatto che ci sono numeri positivi sull'occupazione, però anche qui lei sa che in Italia la maggioranza è posizione, non sono mai d'accordo su niente, neanche sui numeri, tanto è vero che io cito spesso i diari di musico, il grande scrittore austriaco che dice che altre volte 2 più 2 fa 6, quindi così a noi ci mettiamo d'accordo perché se c'è un numero positivo è negativo, però se è negativo forse è positivo e i numeri sono i numeri, almeno quello no, poi dopo certo i numeri hanno una nuova qualità e bisogna interpretarli. L'ultima domanda che le faccio è di pura attualità, non è legata alla campagna per l'europea, ma in parte sì, certo la campagna per l'europea nel territorio rigore è un po' sconvolta, con un presidente come Giovanni Totti che è stato mio collega, conosco bene, non metto bocca ovviamente sull'inchiesta perché l'inchiesta farà il suo corso, abbiamo letto delle cose, ognuno le può valutare, lei ha governato una regione, importante come Lazio, si discute spesso al di là dell'etica e diciamo delle regole per amministrare una regione, dei rischi che corrono gli amministratori, cioè che addirittura non fa per non rischiare e che chi fa poi sbaglia, questo non è una scusa per l'illegalità o per l'immoralità, volevo sapere lei come quando ha sentito queste notizie, come le ha declinate rispetto alla sua storia? Sono rimasta sconvolta perché oggettivamente andare a prendere a casa un presidente di regione di mattina, anzi di notte, penso che è un atto, un gesto che sconvolge chiunque quindi immagino in che stato si trovasse il presidente, a me ha colpito molto questa cosa, devo dire che quando sei lì ti senti senza rete, non hai un minimo di garanzia o di copertura chiamiamola così, noi parlamentari sappiamo per esempio che hanno delle garanzie giustamente che gli sono state attribuite dalla Costituzione, cosa che non è accaduta per i presidenti di regione, forse perché le regioni sono arrivate dopo, però tu amministri e quindi come ha detto lei molto spesso decidi anche, faccio usare un termine forte, al limite della legalità, ma devi decidere, ovviamente io mi auguro nel caso di Giovanni Toti che si possa risolvere in nulla di fatto, me lo auguro sinceramente e continuo a dire che dobbiamo essere garantisti fino al terzo grado di giudizio, la cosa che però vedo non riesce proprio a passare in questo paese è la voglia di sbattere subito il mostro in prima pagina e questo chiaramente al di là di quello che poi sarà l'evolversi della vicenda giudiziaria distrugge le vite. Io condivido, lo dico anche qui, mi prendo la responsabilità direttoriale, le inchieste faccio nel loro corso e la magistratura sia autonoma, competente e non subisca pressioni, ma il garantismo non è, oggi partecipando con dei colleghi a De Tocco che quasi sbuffano, non lo ricordo, garantismo è una regola fondamentale del nostro Stato di diritto, quindi lasciamo che le cose facciano il loro corso, però ci sono dei fatti, il fatto che dopo 4 anni di indagini si arriva a un mese dalle elezioni e soprattutto che si arresti, una figura di questo tipo che adesso è domiciliana, è comunque un arresto con una motivazione e c'è il pericolo che questo sistema corruttivo elettorale, quindi prenda i soldi come tangenti e non come finanziamento, questa è l'accusa almeno, si potesse ripetere, questa è un'accusa molto grave a 20 giorni dal voto che secondo me incide anche su quella che è la serenità dei cittadini di rigore che vanno a votare. Questa è una mia analisi fattuale. Diciamo che questo potrebbe anche riaprire la discussione sul finanziamento pubblico ai partiti, perché oggi se vuoi fare politica, se ti vuoi candidare, se devi comprare, affiggere un manifesto, hai bisogno di risorse, se non sei ricco altrimenti stiamo andando veramente verso la democrazia solo per i ricchi. Questo è un grande pericolo. Allora, tanti temi, di questi pure ne discuteremo, ricordiamoci in primis però il nostro oggetto è l'Europa, ringraziamo Renata Bolverini per essere stata qui con noi, candidata per Forza Italia nella circoscrizione del centro, abbiamo raccontato le sue idee, i suoi progetti, come dico a lei, come a tanti altri, faccio un bocca al lupo par condicio perché poi si dice un bocca al lupo a uno, si è sempre metaforico ovviamente, e l'altro no, quello sì e quello no, è perché quando si è in campagna elettorale e ci si fa una sfida, essere votati o meno è sempre un bel viaggio, un bel viaggio, bocca al lupo. Grazie ancora, grazie a voi che ci avete seguito, appuntamento alla prossima puntata di Primo Piano Elezioni Europee.